Cosa può fare un'azienda di servizi come Napoletana Gas per migliorare la mobilità in città? Noi stiamo già facendo qualcosa, quindi oltre agli sforzi che faremo, qualcosa già stiamo facendo. Stiamo trasformando tutti gli impianti di misura dei cittadini di Napoli, quindi dei punti di riconsegno di Napoli, in impianti di misura che hanno la possibilità di teleleggere i consumi dei contatori, dei consumi del gas. Ciò significa che per la mobilità in quel caso avremo sia un risparmio noi come aziende, che quindi non manderemo più gli omini nostri a leggere la lettura del contatore, ma ci sarà la possibilità di teleleggere a distanza, ma non solo la lettura, ci sarà la possibilità anche di fare tante attività come l'attivazione del contatore, l'accessazione del contatore, quindi potremmo agire telecomandando. Quindi ci stiamo trasformando già noi da un'azienda dei ferri, delle buche, delle scavi, in un'azienda più informatica, più elettronica. In quel modo non manderemo più gli omini nostri con i veicoli, con gli autonezzi. Un altro aspetto importante che stiamo facendo per Napoli già da qualche anno è la trasformazione di tutti i nostri mezzi a metano, che sicuramente portano un beneficio sull'ambiente, sull'impatto ambientale. Quindi noi abbiamo trasformato circa il 90% dei nostri mezzi sul nostro parco automezzi, che è una bella flotta, sono circa 400 automezzi, l'abbiamo trasformato a metano, quindi un contributo che è sicuramente favorevole ai napoletani, quindi all'area metropolitana di Napoli soprattutto.